siamo arrivati a quattro pagine vedi che io ho tenuto aperto qui sotto la barra che me le fa vedere la barra è dove c'è qui ok allora io posso chiudere la barra e avere le mie pagine che scorrono una dopo l'altra oppure apro la barra sotto e passo da una pagina all'altra cliccandoci sopra ho un'altra possibilità se io clicco qui dove c'è visualizzazione griglia mi viene aperta una finestra in cui io ho tutte le mie pagine messe in ordine noi ne abbiamo solo quattro però potresti averne 25 e quindi questo ti aiuta ti aiuta soprattutto se magari ecco tu decidi che dando un'occhiata vuoi inserire e spostare qualche pagina quindi ti dà la visione di tutto il tuo lavoro poi clicchi nuovamente su questa icona e torni alla tua presentazione un'altra cosa che si vede qui sotto note vediamo cosa succede allora partiamo dall'inizio e apriamo note si apre una barra verticale uno spazio verticale all'interno del quale tu puoi scrivere delle annotazioni che non saranno visibili a chi osserva la tua presentazione che però ti possono essere utili perché magari ti ricordano che cosa devi fare in quel momento facciamo una prova per vedere cosa succede allora questa è la copertina questa è la copertina va bene vado nella seconda pagina e dico spiegare cos'è una medusa quindi io mi ricordo che quando aprirò questa pagina dovrò spiegare le caratteristiche di questo animale allora ovvio qui dentro puoi mettere solo una nota non è che ti puoi scrivere tutta la descrizione e poi leggere perché fai anche una brutta figura qui ti devi ricordare raccontare vacanza perché mentre eri in vacanza sei andato in barca a vedere i delfini e qui puoi mettere ricordarsi cliccare stella perché in questo modo entrerà in funzione il link e partirà il video benissimo torniamo alla nostra presentazione diciamo che abbiamo finito allora abbiamo dato il titolo gli oceani abbiamo creato quattro pagine abbiamo messo foto video visto lo stile abbiamo visto che comunque malgrado ci sia uno stile io però posso cambiare e colorare in un altro modo adesso voglio vedere quello che succede quando io presento la mia il mio lavoro cliccando su presenta hai delle scelte standard l'abbiamo già usata questa è la presentazione classica in cui si apre il tuo lavoro a tutto schermo ogni volta che clicchi col mouse o sul tasto di avanzamento della tastiera si apre una nuova pagina riproduzione automatica se io scelgo questa posso fare in modo che le mie pagine si aprano una dopo l'altra in modo autonomo senza bisogno che io clicchi niente ovviamente devo stabilire non lo so cinque secondi quattro secondi dieci secondi devo stabilire bene ogni pagina quanto tempo deve durare poi c'è visualizzazione relatore visto che abbiamo inserito delle note vediamo che cosa succede se io clicco qui presenta ecco cosa succede canva ti dice questa sarà la finestra pubblico cioè questa finestra è ciò che il pubblico vede quindi guarda la differenza perché questa invece è la finestra del presentatore cioè la finestra che vedi solo tu qual è la differenza che qui tu hai le note note che chi guarda la tua presentazione non vede invece se io vado a prendere questa pagina vedi che si aprirà a tutto schermo la tua presentazione ma le note non si vedranno cosa significa questo? significa che questa modalità di presentazione può essere utile se tu hai un secondo schermo su cui proiettare la tua presentazione allora in questo caso questa pagina la metterai sul secondo schermo e la farai vedere a tutti sul tuo computer invece rimarrà questa e avrai la possibilità di leggere di leggere le note facciamo la presentazione standard per vedere come è venuta ecco qua quindi gli oceani la copertina vedi che il video parte automaticamente quando apri la pagina vabbè qui era una prova ed ecco la famosa stella marina io clicco e parte il video che tu puoi aprire a schermo intero in modo che non si veda quello che non ci serve ultima cosa quando tu inserisci un video se vai su riproduzione puoi scegliere se fare la riproduzione automatica che lui ti dà di default infatti che cosa è successo è successo che quando noi abbiamo aperto questa pagina è subito partita la medusa però tu potresti anche togliere questo e far partire tu quando vuoi il video un'altra cosa che puoi fare è dirgli siccome questo è un video molto corto e magari tu devi parlare per un paio di minuti fallo andare in loop cioè quando finisce ricomincia da capo quindi ricordati di andare su riproduzione e scegliere quello che vuoi fare di questo video abbiamo finito il lavoro adesso bisogna capire che cosa vuoi fare di questo lavoro se è una presentazione da far vedere agli altri allora abbiamo visto quali possibilità hai se invece ti serve un altro formato puoi scegliere scarica e puoi scaricarla come pdf ovviamente tenendo presente che animazioni video tutte queste cose qui spariranno scaricarla in pdf pronta per essere stampata ma puoi anche scaricarla come se fosse un video vediamo cosa succede ha scaricato ovviamente ce li avrò nei download eccolo qua gli oceani vediamo cosa succede se lo apro vedi che io non sto facendo assolutamente niente e si è trasformato in una sorta di video che cosa è successo semplice torniamo alla nostra presentazione quando tu apri una pagina se ci fai caso qui compare 5 secondi se sei tu che fai andare avanti le pagine questo non serve ma nel caso tu lo volessi trasformare in un video allora lui fa durare la schermata di ogni pagina 5 secondi ok vedi 5 secondi se tu sai già che vuoi trasformarlo in un video puoi cliccando qui scegliere la durata delle pagine vedi cambiare la durata delle pagine e decidere se cambiarla pagina per pagina quindi tu puoi anche dare a ogni pagina un tempo diverso vedi io qui metto 10 poi vado qua e invece gli dico 28 benissimo oppure posso decidere che 3 è il tempo giusto e allora gli dico applica a tutte e 4 le pagine quindi questo è un altro è un'altra modalità per poter utilizzare la tua presentazione bene abbiamo visto un po di cose nuove anche anche oggi spero di esserti stata utile ci vediamo al prossimo appuntamento buon lavoro bene